Due volte sotto nel punteggio, due volte ripresa dalla Juventus, partita scoppiettante allo stadium tra i bianconeri e il Parma con i ducali che conquistano un punto importante ai fini della salvezza. Dopo il gol del vantaggio di Del Prato, è arrivato il momentaneo pareggio di Mekeni, prima del nuovo vantaggio ospite con Soma. Nella ripresa la Juventus prova a crescere e dopo pochi minuti trova la rete del pareggio con UEA che sfrutta al meglio l'assist di Conseisau. Le due squadre non si risparmiano con la Juventus che va più volte vicina alla rete del vantaggio prima con Locatelli e poi allo scadere con il Discon del Prato che salva sulla linea dopo l'uscita di Suzuki. Secondo pareggio di fila per gli uomini di Tiago Motta.